Sicuramente la partita è stata una partita di grande equilibrio contro una buonissima squadra, una squadra oltre ad essere una buona squadra, una squadra in salute. Noi venivamo da un momento tra vivette difficile perché non giochiamo da tanto, di conseguenza qualche ripercussione c'è, però abbiamo fatto una buonissima gara e grossomodo il pareggio meritato. Ma penso che già in parte ho risposto alla domanda che mi hanno fatto prima, un risposto, noi veniamo da un periodo di stop, quindi è normale che quando poi succede che vai a giocare dopo tante settimane fai fatica nella durata della partita. È la logica, penso che sia normale, questo penso che sia la motivazione. Nel secondo tempo abbiamo fatto un'ottima partita. Primo tempo quando ha cominciato a piove forte abbiamo perso, cioè appena fatto gol, ci siamo un attimino rilassati, forse pensavamo che tutto era facile, invece lo sapevamo che c'eravamo davanti un'ottima squadra. Per quanto riguarda le sostituzioni nel secondo tempo ho messo dentro Coiro e Figliolia perché riuscivamo ad arrivare molto bene sugli esterni e loro due sono sicuramente più fisici di Stancarone, quindi giocando con i quinti da una parte di Hawa e dall'altra parte prima De Foglio e poi Graziani, avendo due un pochino più strutturati fisicamente in mezzo speravo che con i cross potevamo fare qualcosa di importante.